Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La nostra storia dell'Afghanistan raggiunge un momento che al tempo stesso molto complesso, ma anche culmine. Perché nella puntata di oggi, dopo aver visto la nascita dello Stato comunista, l'occupazione da parte dei sovietici, l'invasione da parte sovietica, la lotta da parte dei mujahideen, prima contro i sovietici, poi costretti ad andarsi nel 1989, e quindi contro quello che rimaneva, cioè il governo comunista afgano, oggi vedremo gli anni immediatamente successivi, tra il 1992 e il 1996, quando le varie milizie mujahideen facenti capo a varie organizzazioni, vari signori della guerra, tra poco li vedremo, ma qualcuno ve l'ho già spiegato nella scorsa puntata, dopo essere finalmente riuscite a prendere il potere, inizieranno a lottare fra di loro, creando l'ennesima guerra civile, una guerra civile in cui nascerà un nuovo attore, l'ultimo probabilmente che mancava a tutto questo nostro racconto, perché nella puntata di oggi, come avete visto dal titolo, inizieranno a comparire sulla scena afghana, guidati dallo sfuggente Mullah Omar, i talebani. Come sempre vi consiglio di recuperare le puntate precedenti, trovate la playlist in descrizione, anche perché alcuni dei protagonisti della storia di oggi ne ho già spiegati, ne ho già parlato nelle puntate precedenti e non mi ripeterò. La scorsa puntata, lunedì scorso, ci eravamo fermati veramente in una situazione clou. Nell'aprile del 1992, le forze dei mujahidin, facenti capo a vari gruppi di mujahidin, erano arrivate a Kabul e l'avevano messa sotto assedio. Questi gruppi erano grossomodo spaccati in due suddivisioni principali. Nella prima facevano parte tutti quei gruppi di mujahidin che avevano aderito alla cosiddetta conferenza di Peshawar, che è una conferenza che era stata organizzata dalle Nazioni Unite e che sotto un certo punto di vista avevano deciso di riunirsi e di creare un governo mujahidin che potesse governare il nuovo stato islamico dell'Afghanistan. Questa era la definizione. Questo governo nasceva riunendo proprio le varie fazioni. Ad ognuna di quelle fazioni veniva assegnato un ruolo, un ministero, a seconda della loro importanza, ad esempio il comandante Massoud, il leone del Panjshir, come era chiamato, che era sicuramente uno dei capi più famosi, aveva avuto come compito quello di ministro della difesa, quindi a tutti gli effetti capo di tutte le forze armate. A questo gruppo si contrapponeva sostanzialmente una persona, o meglio, le milizie facenti capo ad una persona, cioè Ekmatiar. La scorsa puntata ho sbagliato un po' troppo spesso il suo cognome, e complesso cercherò di pronunciarlo meglio. Ekmatiar era capo di un gruppo di milizie islamiste ancora più estremiste, le quali, finanziate dal Pakistan, nell'aprile del 1992 avevano cercato di forzare la mano, giungere a Kabul, conquistare la città, e qui imporsi come unici dominatori di tutto l'Afghanistan. Era stato un tentativo di colpo di mano che era stato proprio finanziato dal Pakistan, in particolare dei servizi segreti pakistani, i quali contavano proprio su Ekmatiar per prendere il potere in Afghanistan e in qualche modo controllarlo come un proprio stato satellite, diciamo così. Ekmatiar aveva preso d'assalto Kabul, peraltro provocando la fuga degli ultimi diplomatici russi rimasti, c'era l'immagine nella scorsa puntata, costringendo Najibullah, che era presidente dell'Afghanistan fino a quel momento della Repubblica Popolare dell'Afghanistan, a rifugiarsi in un'ambasciata, ma ben presto venendo scacciati da Kabul dalle altre forze coalizzate. Quelle di Massoud, ne ho già parlato più volte e non voglio approfondire, e quelle facenti capo a Dostum, che era un ex generale dell'esercito popolare afgano, che si era ribellato a Najibullah negli ultimi mesi di governo, aveva creato, partendo dalle divisioni afghane a lui fedeli, che erano anche le migliori divisioni dell'esercito della Repubblica afghana, creando una propria milizia personale, con il quale aveva preso il controllo del territorio attorno a Mazzari Sharif, città del nord-nord-ovest, più o meno al confine con Uzbekistan, aveva preso il controllo di quella zona, e poi si era unito a quelle, diciamo governative ormai, perché il vero governo era quello nato a Peshawar, proprio nel respingere le forze di Ekhmatiar. Questo primo scontro, che inizierà a provocare gravi danni a Kabul, una città che fino a quel momento era stata, a differenza del resto dell'Afghanistan, sostanzialmente risparmiata dalla guerra, ovviamente però non sarà risolutivo, perché Ekhmatiar uscirà fuori dalla città, ma una volta fatto si installerà a sud della città stessa, e inizierà a scambiare colpi di artiglieria, razzi, missili, verso la città, iniziando a combattere con le altre milizie, e iniziando un lungo scontro che nei mesi, anzi negli anni, perché durerà fino a 1996, letteralmente devasterà Kabul, che passerà da una popolazione di 2 milioni di abitanti a non più di 500 mila. Gli altri moriranno o saranno costretti alla fuga. A peggiorare la situazione per Kabul, ci furono tutta una serie di fattori. Innanzitutto, ben presto, la città si ritrovò a corto di rifornimenti. Non solo era diventata un campo di battaglia, non solo era letteralmente divisa tra vari signori della guerra, ognuno dei quali controllava una zona, e su quella zona spadroneggiava, le loro milizie provocavano violenze, stupri, saccheggi, insomma, il peggio che una città possa subire in guerra. Non solo, ma dalla fine del 1992, la città si ritrovò addirittura senza acqua né corrente elettrica, perché in un estremo tentativo di costringere le milizie avversarie a ritirarsi, Ekmatiar si era impossessato proprio delle centrali elettriche che rifornivano la città, e aveva tagliato i rifornimenti verso Kabul, con il risultato che anche la distribuzione dell'acqua era diventata molto difficoltosa, peraltro in un territorio già abbastanza arido di suo. Inoltre, queste milizie che vi ho detto, questi tre comandanti che vi ho detto, non erano i soli, anzi, negli anni, un numero variabile tra i cinque e i sette eserciti di Mujahedin, talvolta alleati fra di loro, talvolta in guerra, si contenderanno la città, che verrà ogni volta spartita, e ogni volta sottoposta a bombardamenti, attacchi e brutalizzazioni, da parte degli altri eserciti in lotta fra di loro, praticamente diventando una vera e propria zona di guerra. A talvolta, questi eserciti cercavano di massacrare l'etnia di appartenenza dell'altro esercito. Ad esempio, facciamo un esempio, due dei più sanguinosi gruppi, che maggiormente si contesero, soprattutto la parte meridionale della città, erano due gruppi di origine prettamente religiosa. Da una parte c'era uno guidato da Sayyaf, che era composto principalmente da sunniti di fede wahabita, cioè per intenderci, la stessa fede, per così dire, credo, tipo di religione sunnita, che si professa in Arabia Saudita. Sayyaf, in effetti, aveva ricevuto i finanziamenti per creare quella milizia, proprio dall'Arabia Saudita. I suoi uomini erano stati addestrati nelle madrasse, nelle scuole coraniche che erano state create in Pakistan durante l'invasione sovietica, proprio dai sauditi. Lì si erano radicalizzati ed erano diventati, a tutti gli effetti, oltre che dei mujahideen, anche degli estremisti islamici. A contrapporsi a loro, c'era un altro tipo di milizie, anche loro estremiste, anche loro religiose, ma non sunnite, ma sciite, formate principalmente da genti del popolo azzara, una minoranza sciita all'interno dell'Afghanistan. Comandate da Abdul Mazzari, il quale riceveva i suoi finanziamenti dall'Iran. Il risultato è che queste due milizie, invece di combattere per comprollare Kabul, iniziarono a combattere, e lo faranno praticamente per un anno e mezzo, quasi ininterrottamente, per distruggere l'avversario, con il risultato di continuare ad attaccare, danneggiare, uccidere, all'interno dei quartieri controllati dall'altro, in una specie di guerra interna, la guerra civile, e pensate il caos che si era venuto a creare a Kabul, che non farà nient'altro che sconvolgere ulteriormente la città. Ora, non crediate che questo scontro sia proseguito senza nessun tentativo di mediazione. Perché non è così? L'ONU fece numerosi tentativi di mediazione. Più volte cercò di intervenire per cercare di riportare la pace, cercò ovviamente di far trattare le due fazioni principali, quella che faceva capo agli accordi di Peshawar, quindi potremmo chiamarlo ormai il governo ufficiale dell'Afghanistan, e dall'altra parte invece la fazione islamista di Ekhmatiar. Nel marzo del 1993, Rabbani, che era intanto stato eletto presidente dell'Afghanistan, con un mandato che sarebbe dovuto terminare nel 94, e che invece proseguirà fino al 2001, anche per il suo rifiuto di rinunciare alla carica, cercò, con la mediazione dell'ONU, di raggiungere un accordo di questo tipo. Ekhmatiar fece delle richieste molto precise. Innanzitutto chiese che Massoud rinunciasse a diventare ministro della difesa, e in effetti Massoud, cercando un accordo, accettò la cosa uscendo dal governo. La seconda cosa che chiese fu che le milizie uzbeke, che facevano capo ad Ostum, e che provenivano da Mazzari Sharif, lasciassero Kabul. Ovviamente erano delle richieste che servivano da una parte a togliere potere a Massoud, che lui vedeva come il suo più grande avversario, dall'altra ridurre il numero di truppe contro di lui, cercando in questo modo di riequilibrare la minaccia militare. Il governo di Rabbani accettò. Ma in realtà si trattò semplicemente di un'illusione, la pace, perché Ekhmatiar partecipò solamente a un Consiglio dei Ministri, pensate quanto partecipò, finito quel Consiglio dei Ministri, tornò dalle sue milizie e diede ordine di tornare a bombardare la città, dimostrando che della pace non gli importava nulla. L'unico in tutto questo che probabilmente ottenne quello che voleva fu Dostum, il quale, ben contento di lasciare Kabul, si ritirò a Mazar-i-Sharif e creò una specie di Stato all'interno dello Stato. Creò una specie di Stato, ovviamente, ripeto, non riconosciuto da nessuno, supportato dall'Uzbekistan, almeno economicamente, ma non riconosciuto da nessuno, in cui le sue milizie presero il controllo di una parte del territorio afgano e lo governarono in piena autonomia, senza più dipendere né dal governo autonomo né dalle milizie islamiste. Per quasi un anno e mezzo, due anni, e poi anche durante gli anni successivi di guerra civile, fu a tutti gli effetti un vero e proprio potentato semi-autonomo, che addirittura arrivò a stampare moneta, pensate quanto si consideravano autonomi, e fino al 1996, grosso modo, sarà anche molto stabile dal punto di vista interno, tanto che molte genti dall'Afghanistan migrarono proprio in questa zona per sfuggire ai combattimenti che invece piagavano tutto il resto del paese. Per tutto, il 1993, la situazione, grosso modo, non cambiò. A Kabul, le milizie si combattevano, ma Sud lentamente sembrava essere tornato, nonostante la perdita delle truppe di Dostum, all'offensiva, e lentamente i suoi mujahideen erano riusciti a catturare il grosso della città, a prenderla sotto il loro controllo, costringendo le milizie religiose a ritirarsi sempre più verso Sud. Anche se Khmatiar, che continuava a essere finanziato dal Pakistan, anche se con qualche dubbio, come tra poco vedremo, continuava a utilizzare le sue armi per bombardare e attaccare Kabul. E verso la fine del 1993 iniziò anche una vera e propria strategia del terrore, iniziando a provocare dei massacri indiscriminati, i massacri che in realtà facevano entrambe le parti, siamo assolutamente chiari, ma divenne una vera e propria strategia per cercare di spingere la popolazione di Kabul a rivoltarsi contro Massoud. All'inizio che lo scuso del 1994, nel marzo del 1994, però il tavolo sembrò tornare a capovolgersi. Vostum, da Mazzari Sharif, ricevette probabilmente delle offerte di accordo da quello che fino a quel momento era stato il suo nemico, Khmatiar, il quale gli propose una collaborazione per sconfiggere Massoud, sconfiggere le forze governative, e spartirsi il potere, forse proprio dividendosi l'Afghanistan, questo probabilmente non lo sapremo mai. E così un fondamentalista religioso e quello che era stato un generale dell'esercito della Repubblica Popolare dell'Afghanistan, quindi teoricamente che era stato un comunista, si allearono. E nel marzo del 1994, Dostum tornò a Kabul e attaccò a sua volta Massoud, che inizialmente fu costretto ad arretrare, scacciato dall'arrivo di nuove truppe, ma che nell'estate del 1994, grazie a nuovi aiuti giunti, riuscì a ribaltare la situazione e a riprendere lentamente l'offensiva, costringendo Dostum a ovest e Ekmatiar a sud ad abbandonare progressivamente i territori che avevano conquistato. Il 1994 però è anche un anno in cui un nuovo attore entra nella contesa. Sto parlando dei talebani, è ovvio, ve l'ho già annunciato all'inizio, l'avete visto dal titolo. Nel 1994, per la prima volta, si inizia a parlare dei talebani. La prima domanda è chi sono e da dove escono? Eh, e qui già abbiamo qualche problema. Talebani, i taliban, 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 come vogliate chiamarli, deriva da un termine Pashtun che vuol dire studenti. Sulla carta, questo è quello che viene raccontato normalmente, i taliban sono un gruppo di studenti, ovviamente religiosi, ovviamente islamisti, ovviamente radicali, i quali, riunitisi tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994, intorno al loro leader, il cosiddetto Mullah Omar, iniziarono a convincersi che l'Afghanistan avesse necessità di un vero e proprio governo islamista, che nessuna di tutte le fazioni che stavano combattendo, compresa quella di Ekmatyar, fossero realmente ispirati da Dio, fossero realmente religiosi, volessero realmente creare uno stato islamico in Afghanistan e che quindi fosse necessario che i veri credenti si riunissero per creare questo nuovo stato. Questa, diciamo, che è la versione ufficiale. La versione ufficiosa è un'altra e vuole che in realtà questi talebani fossero stati letteralmente in la nuova creazione fatta dai servizi segreti pakistani, i quali nel 1994 si erano ormai stufati di Ekmatyar, a cui continuavano a inviare aiuti, a cui continuavano a invitare, a inviare truppe, rifornimenti, ma che non sembrava essere minimamente in grado non solo di conquistare Kabul, ma neanche di conquistarsi un seguito dalla popolazione afghana, cosa che ovviamente continuava a rendere impossibile l'idea di creare uno stato all'interno dell'Afghanistan da lui controllato. Per questo, secondo alcuni, e in effetti negli anni successivi anche il presidente del Pakistan se lo fece scappare, i talebani furono una creazione diretta proprio dei pakistani, probabilmente appoggiati anche da altri stati islamisti, appoggiati da quei movimenti islamisti radicali che erano nati durante la guerra, l'invasione sovietica, al-Qaeda fra tutti, ma ripeto di questo, ho già detto in passato, ne parleremo nella prossima puntata che avrà tutta una parte dedicata ad al-Qaeda. Tutti questi movimenti si erano decisi a supportare questi talebani, che però, diciamolo fin da subito, fin dall'inizio aggirano in maniera molto autonoma, sfuggendo probabilmente al controllo proprio dei pakistani. I talebani salirono all'onore delle cronache nel novembre del 1994, quando, mentre il grosso delle milizie erano impegnati a Kabul a combattere, a sorpresa attaccarono e conquistarono la città di Kandar e progressivamente iniziarono a estendere il loro dominio su tutta quella zona dell'Afghanistan. Una volta presa Kandar è creato una sorta di, anche qui, nuovo governo autonomo, peraltro c'è da dire, almeno all'inizio, molto supportato dalla popolazione, dato che i talebani sembravano gli unici intenzionati a riportare la pace in Afghanistan e in effetti all'interno dei loro domini imponevano una pace strettamente rigorosa cercando anche di pacificare le strade, diciamo, in maniera decisamente violenta, ma probabilmente chi si trovava da anni in guerra si trovava ad accettare anche quello. Una volta presa Kandar, le forze talebane marciarono subito verso Kabul, riuscendo sulla strada a sconfiggere una parte delle forze di Ekhmatiar per poi entrare in città. Una volta entrati in città, però, fecero a tutti gli effetti il passo più lungo della gamba, perché Massoud riuscì a ricompattare intorno a sé il grosso delle forze Mujahideen e in circa due mesi di battaglie affrontò i talebani e li sconfisse, cacciandoli fuori dalla città, costringendoli a tornare nel loro roccaforti a Kandar e costringendoli ad abbandonare l'idea di conquistare definitivamente Kabul. Era però solo questione di tempo, perché la vittoria dei Mujahideen fu solo temporanea. Una volta che ebbero vinto, tornarono a combattere fra di loro. Le vecchie divisioni riesplosero e continueranno a piagarli fino al 1996, mentre i talebani, una volta leccatisi le ferite della sconfitta di Kabul ripresero la loro avanzata, conquistando alla fine del 1995 la città di Erat, un'altra grande città dell'Afghani. Sale progressivamente tornando a girare, a creare una tenaglia verso Kabul. Lentamente i talebani divennero la minaccia principale, tanto che Dostum decise di abbandonare nuovamente Kabul ritirandosi verso Mazzari Sharif e nel marzo del 1996 nuovamente le due fazioni tornarono a parlarsi. Questa volta veramente, anche perché tutte e due temevano questi talebani, con Ekhmatiar che alla fine accettò di rinunciare alla lotta e di schierarsi proprio con il governo legittimo, entrando all'interno del governo e diventandone ministro. Era però ormai troppo tardi. Le milizie ormai riunite del governo non erano in grado di opporsi alle milizie talebane che stavano crescendo in numero, stavano crescendo in addestramento, in forniture di armi e che a metà del 1996 tornarono ad attaccare Kabul. Il 27 settembre 1996 Massoud, reso si conto che non aveva più nessuna possibilità di tenere la città, informò il governo che era ormai pronto ad evacuare. Il governo ne le dia del permesso e le milizie di Massoud insieme a quelle di altri gruppi Mujaheddin si ritirarono da Kabul che le venne lasciata in mani talebane. Da questo momento i talebani diventeranno, seppur non riconosciuti da nessuno perché il governo legittimamente riconosciuto sarà sempre quello dei Mujaheddin, diventeranno i veri padroni dell'Afghanistan. E cosa faranno gli altri Mujaheddin? Beh, varie cose diverse. Qualcuno si schiererà con i talebani soprattutto all'interno delle fazioni più islamiste alcuni si schiereranno con i talebani e si uniranno a loro consegnando le proprie zone di appartenenza, consegnando i propri miliziani e a tutti gli effetti ingrossando l'esercito dei talebani. Altri invece fuggiranno. Vi ho già detto che Dostume era tornato a Mazzari Sharif nel suo regno personale cercando di mantenerlo libero dai talebani. Il resto delle forze a cominciare da Massoud si erano invece ritirati verso nord riprendendo gli scontri esattamente nella stessa zona in cui avevano combattuto ai tempi dell'invasione sovietica cioè nella valle del Panjshir. Da lì iniziò un'alleanza che controllava tutto il nord del paese e che cercherà negli anni successivi di opporsi alla progressiva avanzata dei talebani che però lentamente da qua al 2001 continueranno la loro avanzata conquistando un caposaldo di dietro l'altro e progressivamente limitando lo spazio di quella che nel mondo sarà chiamata l'alleanza del nord ma che ricordiamoci è il governo dell'Afghanistan creato dai Mujahideen insomma una situazione molto molto complessa. Come avete visto la puntata di oggi non era facilissima e non è facilissimo anche capire come ormai è un cliché di questa serie come all'interno dell'Afghanistan molto spesso gli interessi di alcuni prevalgano sugli interessi di tutti come alla fine ognuna di queste milizie che si è venuta a creare abbia una propria agenda abbia dei propri interessi abbia anche dei propri nemici talvolta all'interno dell'Afghanistan stesso e non riesca in nessun modo a creare un fronte comune per opporsi a qualcun altro se non in misura temporanea. Forse in parte il successo dei talebani è proprio questo perché fin dall'inizio i talebani si posero come una milizia al di fuori delle etnie certo nascevano dall'etnia Pashtun che però era l'etnia maggioritaria all'epoca soprattutto nella parte meridionale dell'Afghanistan al confine col Pakistan ma inglobarono al loro interno soldati e miliziani provenienti da tantissime milizie diverse e perseguirono fin dall'inizio un unico ideale quello religioso quello di creare un governo di stampo religioso e lo faranno perché come sapete tutti dal 1996 con la caduta di Kabul fino al 2001 i talebani imporranno un governo di stampo strettamente religioso imponendo gigantesche limitazioni alla libertà delle donne in tutti i sensi ne parleremo nella prossima puntata limitazioni alla libertà costringeranno a non più vedere ad esempio la televisione che di per sé sembra niente ma vuol dire vivere isolati dal resto del mondo chiuderanno i confini insomma cambieranno ancora una volta il volto dell'Afghanistan ma di questo ne parleremo nella prossima puntata perché per parlare di questo e per capire cosa successe nel 2001 perché poi parleremo anche dell'invasione statunitese dobbiamo prima introdurre un altro attore come vi ho già detto al-Qaeda io mi fermo qua spero che questa pilola vi sia piaciuta non sia risultata troppo pesante come vi dico sempre ho scelto alcuni nomi alcuni momenti di questa guerra per darvi un quadro generale senza appesantire ma come vi dico sempre ci sarebbe tantissimo da approfondire gli anni dei combattimenti a Kabul furono anni terribili per quella città c'è un elenco sterminato di massacri macelli persone uccise bombe razzi sui matrimoni cose che all'epoca purtroppo in Europa venivano oscurati da eventi praticamente simili che avvenivano a Sarajevo fa uno strano paragone i talebani quando arrivarono a Kabul ovviamente rinnovarono questi massacri pensate che Najibullah ve lo ricordate il presidente dell'Afghanistan quando era Repubblica Popolare Afghana l'ultimo penultimo a tutti gli effetti ma l'ultimo reale presidente della Repubblica Afghana che era sopravvissuto fino a 1996 sarà ucciso proprio dai talebani che entreranno nell'ambasciata dove era ospitato lo tireranno fuori lo castreranno e poi lo impiccheranno in una fine veramente terribile per un uomo che era sopravvissuto tutti quegli anni ad ogni modo ripeto io mi fermo qua la prossima puntata faremo ancora un passo avanti siamo ormai quasi all'intervento statunitense ma come vi dicevo bisognerà parlare di Osama Bin Laden e di Al Qaeda intanto se volete rivedere questa pillola perché vi siete persi qualcosa o quelle precedenti potete farlo qua su YouTube potete farlo ascoltandolo dal nostro podcast lo trovate in descrizione potete chiacchierare con noi sui social su Instagram su Facebook sul canale Telegram se volete potete se non lo siete già iscrivervi al canale per non perdervi le prossime pillole e cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati quando escono la cosa importante ovviamente è ricordarsi di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua al fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con la nuova pillola di storia ci vediamo lunedì prossimo per continuare a parlare di Afghanistan a presto ciao ciao ciao